E' con noi Vincenzo Figuccia, parlamentare dell'Udc, assessore entrante e uscente del governo musumeci, minavagante della maggioranza o masaniello buono di questa terra di Sicilia. Quale definizione le piace di più? No, intanto entrante e uscente non è male perché non ripercorre quel gergo che dice ex assessore, rispetto al quale io preferisco già, perché già significa che hai fatto già quella cosa e ora puoi fare qualcosa di più utile e di più importante. Sul profilo, io credo che ci sono dei momenti in cui nella vita bisogna fare delle scelte, arrivano dei momenti in cui ti guardi attorno, vedi il contesto e dici è arrivato il momento di farlo. Qual è il contesto? Il contesto è quello di troppa gente che vive una sperequazione tra la condizione economica dei propri figli, dei propri fratelli, dei propri genitori e quello che accade dentro il palazzo. Su questo punto sicuramente posizione estremamente critica. credo che le posizioni critiche non mancheranno, non mancheranno ogni qual volta da parte del Parlamento, in termini di proposte legislative, in termini di azioni di governo, ci sono delle cose che non vanno nella logica dell'equa distribuzione delle ricchezze, nella logica della tutela di chi sta peggio. Ecco, credo che servano degli interventi a favore di chi non sta bene e d'altra parte servono degli interventi fatti di investimenti, fatti nel settore strategico per lo sviluppo. Quindi una posizione critica, ma assolutamente all'interno della maggioranza. Ecco, all'interno della maggioranza e all'interno del contenitore presso il quale è stato eletto, cioè il quale è di centro UDC. Quali sono i suoi rapporti oggi con la base e quali sono i rapporti con i quadri, cioè con il commissario regionale Naro, con il segretario Cesa, cioè si è assorbito questo colpo dell'uscita di scena di un loro ossessore o ci sono ancora cose da chiedere? Intanto il coordinatore regionale non intendo sentirlo perché mi sembra inutile, come diciamo inutile sono state le sue uscite, quindi non avverto questa esigenza di confrontarmi con un soggetto come Naro. Per quanto riguarda invece il segretario nazionale, ci siamo visti ieri, abbiamo fatto un'ora abbondante di discussione a Roma subito dopo la trasmissione ai giletti, condivide buona parte delle cose che ho detto, ci stiamo confrontando per strutturarci ovviamente in funzione dei prossimi appuntamenti, che sono le amministrative, che sono le politiche, che sono le europee, di un partito che sta facendo un ottimo lavoro sul territorio e che si sta ben organizzando a livello nazionale. Di rifiuti abbiamo già parlato ampiamente, lei ha chiarito che si è sentito solo, che comunque è una solitudine a cui anche Musumeci ha fatto riferimento quando ha detto in questo dipartimento non si capisce perché vogliono andare tutti via i dirigenti, c'è da ricreare un gruppo, di questo abbiamo già parlato. Parliamo di ex province, il governo ha, questo governo in campagna elettorale ha fatto dell'ex province una battaglia, cioè un vessillo, la scorsa legislatura poi avete approvato una legge che ripropone l'elezione diretta. Lei pensa che l'impegno verrà mantenuto entro l'anno o ancora si protrarrà la lunghissima gestione commissariale. Non solo utile ma necessario rimettere mano al tema della riforma delle province. Questi eccessivi e lunghi tempi dei commissari che ricordate furono nominati da Crocetta per fare dei presidi territoriali, per comandare in alcuni territori facendo quello che prima veniva fatto all'interno di una funzione di governo con gli assessori e poi ad un certo punto si iniziò a fare nel buio delle stanze chiuse di pochissimi, di un commissario, di volta in volta con i singoli dirigenti. Noi riteniamo che invece bisogna ritornare ad una logica di trasparenza dove si restituisce voce al popolo nella logica della partecipazione, della condivisione, della democrazia e pensiamo che si debba, questo è il mio pensiero ma assolutamente qua in linea con quello del presidente Musumeci che è una persona che stimo tantissimo e che credo potrà fare davvero dei passaggi importanti perché si possa entrare rapidamente al ritmo veloce. Quindi bisogna ritornare all'elezione diretta delle province con l'elezione diretta quindi del presidente e dei consiglieri e come coordinatore provinciale dell'Udc sto lavorando a questo appuntamento. Ci dica la verità, quando è stata l'ultima volta che ha sentito anche al telefono Gianfranco Micci che è un bel po' di tempo fa? Il giorno prima che si votava mi ha chiamato per chiedermi come andava, per dirmi che era candidato e ha detto non ti preoccupare non ci sono problemi, ti voterò. Mi ha ringraziato e ho detto che la politica è una cosa, poi i fatti personali sono un'altra. I fatti personali sono che mi ha riempito la città di Palermo con la scritta Onofio Figruccia detto Vincenzo e di questo purtroppo chi gli ha dato questo consiglio si deve vergognare perché è anche una delle cause dei miei continui attacchi a Gianfranco Micci che è spesso nel merito, spesso anche per questioni di carattere politico. Poi per il resto ci vediamo ogni volta dentro in aula, ci salutiamo da lontano, quando chiedo di intervenire nei lavori d'aula. L'ultima battuta, l'UDC si è presso alle politiche dopo un rilancio che è passato alle amministrative dove ha corso con il simbolo e è approdato a cavallo regionali, mi sembra un partito che intorno a quale si stia aggregando un forte consenso polarizzato al di là dei due blocchi. Su questo cosa ci sia ancora da fare e su quali basi si deve lavorare? Penso che Cesa stia facendo un grande lavoro, è uno dei principali leader in questo momento della politica nazionale insieme a Berlusconi che ovviamente ha la sua età, insieme a Salvini che ha 44 anni, insieme alla Meloni. Cesa sta mettendo insieme anche quella parte sana della leadership del paese, a partire da Fitto che litigò tantissimo con Berlusconi, ricorderete di tutti i colori. Oggi ci ritroviamo tutti insieme, al di là delle cose dette contro Berlusconi. Ricordo che Fitto lo rimpì di parolacce, andò in tv contro di lui. Oggi ci ritroviamo tutti insieme, credo che Berlusconi sarà contento per questo lavoro che stiamo facendo tutti insieme e Cesa assolutamente si colloca in un ruolo chiave in questo quadro di riferimento.